il trono di spade italiano salve a tutti i signori e benvenuti sul mio canale allora oggi andiamo a parlare come avete capito dal titolo di un libro che si chiama l'impero delle clessidre o meglio è una trilogia comunque ne parleremo con calma io come anche tanti voi sul mio canale ho masticato tantissimo fantasy oltre ai grandi classici come il trono di spade il signore degli anelli eccetera 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 e spesso è molto deludente spesso troviamo delle dei plagi delle forme più o meno scimmiottate di quelli che sono i grandi classici del fantasy che risultano noiosi e a volte anche abbastanza ridicoli per alcuni versi invece l'impero delle clessidre che ammetto lo leggerò con voi lo leggiamo piano piano insieme perché io non ho ancora letto tutta quanta la saga ma quel poco che ho letto è veramente ben fatto scritto benissimo e soprattutto in chiave martiniana in chiave martiniana non significa però un plagio di di george martin ma semplicemente con quel tipo di scrittura accattivante e una storia comunque originale e a sé stante oggi vi propongo il prologo che lo leggeremo insieme e ogni martedì vi proporrò un capitolo nuovo che abbiamo scelto io e mario attilieni che è lo scrittore di questa bellissima opera per farvi immergere piano piano in quello che è questo mondo quindi inutile dirvi che vi lascerò tutti i contatti e i link utili per acquistare il libro o per informarvi un po di più sulla storia qui in descrizione ora ascoltiamo insieme il prologo che ovviamente è letto da me dall'avido sottoscritto e poi lo analizziamo insieme buon ascolto l'impero delle clessidre di mario attilieni prologo merià entrò nel tempio col suo passo felpato senza far rumore sotto la lunga tona caviola le sue pantofole strisciavano morbide sembrava che non toccasse terra il tempio era fresco avvolto nella penombra del pomeriggio la pietra anerita dall'odore delle candele scivolò lungo tutta la navata centrale avanzando gli eratica al passaggio della vecchia loga un inserviente si inginocchiò con deferenza come se fosse sfilato in processione il creatore fatto uomo un cuscino bianco e azzurro ricamato con l'effigio imperiale era sistemato su uno dei gradini di marmo dell'altare maggiore merià si inginocchiò appoggiandosi alla balaustra afferrò l'asterisco d'oro che portava al collo e lo strinse nella mano vizza ed esangue fino quasi a farsi male oh come vorrei che la mia signora non avesse mai lasciato la valle dell'autunno portandomi con sé sospirava e pregava vorrei non aver mai lasciato i miei boschi dalle foglie rosse a volte è questo quello che penso e mentre lo penso mi sento colpevole mi domando se non sia una bestemmia ciò che è stato per tutta la vita fonte di gioia infatti è anche fonte di dolore forse sarebbe stato meglio che Ianna avesse portato un'altra baglia con sé e avesse lasciato me a Lugiai anestetizzata alla vita il ricordo che ho della mia signora è ancora così chiaro come se l'avessi davanti in questo momento aveva quattordici anni era solo una bambina anch'io non ero altro che una bambina una ragazza con il seno fertile di latte ricordo il giorno in cui lasciamo il castello rosso fummo acclamate per le strade di Lugiai lungo la strada delle foglie e poi per tutto il tragitto fino a che non giungemmo sullo stretto era l'imperatrice cioè lo sarebbe diventata avrebbe sposato il prescelto della profezia non fu facile in quei giorni per il mio popolo accettare che il prescelto non fosse uno della nostra gente anche Ianna era titubante ma le vie del creatore sono infinite così le disse suo padre un vecchio con la barba bianca almeno così pareva i miei giovani occhi tutti i vecchi un tempo sono stati giovani ed ora è il mio turno tocca a me essere vecchia una vecchia loga dall'anima corrotta dal tempo e il seno prosciugato da una così numerosa progenie dai figli dell'imperatore e dai suoi nipoti è toccato a me allevarli tutti a differenza delle altre donne nobili della Zimania le donne rotile allattano i propri figli si occupano di loro proprio come fanno le madri del popolo già che è la natura che lo esige la mia signora però non poteva farlo lei era imperatrice la regina degli aesi e dei sidi oltre che dei rotili li ho visti nascere i suoi figli e li ho allevati come se fossero miei tutti anche l'ultimo quello che la mia signora non ha potuto stringere al seno che per un momento prima di morire e i suoi nipoti i bambini delle mie bambine ricordo tutto il giorno in cui sono venute al mondo così come il giorno in cui sono state loro a dare alla luce quelle creature la verità è che sono stati la mia vita e lo sono ancora lo saranno fino al mio ultimo respiro e anche dopo erano tutte bellissime le figlie della mia signora fanciulle e leggiadre dalla pelle chiara e i capelli biondi come le fragole nei campi e il piccolo Maria pregava e piangeva le lacrime le bagnavano le guance stanche si incanalavano lungo le rughe che le sulcavano il viso strinse ancora più forte l'asterisco come se volesse forarsi la mano indurita dai calli con le dita nudose dell'altra si sostenne alla balaustra per non cadere quanta gioia che mi ha dato servire la mia signora servire i suoi figli e i suoi nipoti ma questa gioia a volte in momenti come questi si trasforma in profonda angoscia amarezza preoccupazione per un'armonia che non c'è più la mia signora è morta da oltre 30 anni l'ho accompagnata nel suo viaggio verso il trono ma poi lei mi ha lasciata sola mi ha lasciato le sue figlie e il bambino mi fece giurare che me ne sarei occupata per tutta la vita non mi fu difficile fare quel giuramento anzi fu la cosa più facile del mondo le ragazze erano bellissime e il piccolo era davvero un principe il principe delle fiabe ed ora ed ora sono tutti morti i miei bambini è morto lui e le sue sorelle mi hanno lasciato sola anche loro sola con i loro figli li hanno lasciati a me giurai ancora ogni volta mi sarei occupata di loro per tutta la vita e anche dopo e adesso sono i miei nipoti essere re i primogeniti siedono sui quattro troni della cimania sono nonna di quattro re niente male per una di umili origini in momenti come questi però la soddisfazione cede il passo alla preoccupazione all'angoscia per un mondo che non c'è più non è più il mio mondo questo è il loro ma non è quello che avevo il diritto di immaginare che sarebbe stato la loga Maria alzò i suoi occhi verdi erano lucidi di pianto come le foglie bagnate dalla pioggia il suo viso pallido quasi trasparente era livido congestionato di chiazze arrossate guardò il grande asterisco dorato sopra l'altare la mia clessidra è quasi vuota non restano ormai che pochi granelli di tempo cosa c'è dopo il tempo domandò come vi è sembrato questo prologo a me è piaciuto tantissimo anche se ovviamente io conosco la storia quindi so che questo prologo ovviamente è un prequel quindi si capisce che serve semplicemente per farti immergere nella lore della storia mi è piaciuto per esempio tantissimo il fatto che si capisca che la loga Maria è vissuta per secoli o perlomeno per tre o quattro generazioni di re e già da qua capiamo che c'è un mondo dietro che ci sono eoni di storia che ci sono tantissimi regni tantissime situazioni che si intrecceranno credo in stile martiniano quindi signori mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate cosa pensate di questo prologo che avete appena ascoltato e piano piano arriveremo ad ascoltare una parte un po' più succosa della storia chissà magari un giorno ne faremo anche un audiolibro integrale intanto vi invito ovviamente andare a controllare il link qua sotto per andare ad acquistare il libro o comunque informarvi al riguardo poi ulteriore invito iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina ah un'altra cosa mi trovate anche su altre piattaforme social tra cui instagram che per quanto qua su youtube siamo quasi in 5000 su instagram siamo a malapena 200 quindi se vi va andate a fare un salto magari su instagram e seguitemi al nome avido alchimista dove farò anche comunque un po' di blogging per quello che riguarda libri e audiolibri magari più avanti ora sono un po' sovraccarico tra il trono di spade e tutto il resto e ovviamente ho anche un canale tiktok potete seguirmi anche lì anche se non sono ancora molto attivo ma ci stiamo lavorando piano piano inizierò a pubblicare anche di più quando avrò forse un po' più tempo va bene signore vi voglio bene grazie per l'attenzione grazie per il tempo che mi avete dedicato mi raccomando mario attilieni l'impero delle eccleside andate a controllare andate a vedere andate a piccare il naso che piano piano vi spiegherò un pochettino di più di questa storia veramente bella il trono di spade italiano signori ciao a tutti continuate a seguirmi e vi voglio un mondo di bene ciao ciao